Sono Rosario Giudice, intermediario iscritto alla sezione E presso l'Ivas e lavoro in questo settore da circa 30 anni. Sono stato invitato ad un evento di assicuratore facile da Stefano Cappellini e ne sono rimasto subito positivamente impressionato. Anzi, devo dire che la possibilità di poter seguire il percorso formativo di assicuratore facile è stato uno dei motivi che mi ha spinto alla mia non giovane età a rimettermi in discussione con la convinzione di aver trovato finalmente la struttura giusta con gli strumenti giusti per poter lavorare come avevo sempre sognato, essere utile ai miei assicurati e non semplicemente vendere polizze. Con la scuola, al di là degli strumenti di marketing e della metodologia per poterli sfruttare al meglio, ho acquisito la consapevolezza che la mia è una splendida professione, che se fatta bene può essere importante per i miei assicurati, che devono sempre essere in condizione di realizzare i loro sogni, nonostante gli imprevisti della vita e per me sotto l'aspetto della soddisfazione conseguente alla tranquillità dei miei assicurati. Per questo motivo sono estremamente soddisfatto del percorso svolto e lo consiglio assolutamente ai miei colleghi che non vogliono continuare a fare solo i venditori di polizze.